Siate sacerdoti misericordiosi, siate fedeli alla dottrina del Signore, non alla vostra, e non usate i fedeli come pasto e per vestirvi, ma uniteli in un'unica famiglia. Così Papa Francesco ha i 13 nuovi sacerdoti della Diocesi di Roma, ordinati questa mattina nella Basilica di San Pietro. Prima del rito dell'ordinazione, che ha coinvolto sei diaconi italiani, quattro latinoamericani e tre asiatici, il Pontefice ha pronunciato l'omelia rituale del Pontificale Romano, arricchendola con annotazioni a braccio. Ha ricordato ai nuovi presbiteri che i sacerdoti non sono padroni della dottrina, che è del Signore, ed ha chiesto loro con forza di avere quella capacità di perdono che ha avuto il Signore, che non è venuto a condannare, ma a perdonare. Apparate misericordia, tanta, e se viene in voi lo scrupolo di essere troppo perdonatori, pensate a quel santo prete del quale vi ho parlato, che andava davanti al tabernacolo e diceva, Signore, perdonami se ho perdonato troppo, ma sei Tu che mi hai dato il cattivo esempio. Provo tanto dolore, ha aggiunto, quando trovo gente che non va più a confessarsi perché sta da bastonata e sgridata. Hanno sentito che le porte delle chiese gli si chiudevano in faccia. Infine il Papa ha invitato tutti i sacerdoti a ricordare quello che diceva Sant'Agostino dei pastori che cercavano di piacere a se stessi, che usavano le pecorelle del Signore come pasto e per vestirsi, per indossare la maestà di un ministero che non si sapesse che fosse di Dio.